Ragazzi, here we are. Oggi si decide la stagione. Perché? Perché abbiamo le ultime quattro partite, abbiamo l'Aerenban, che è la partita più importante di questo episodio, poi avremo successivamente Sparta-Rotterdam, Gohead Eagles ed infine AZ. Dopo queste quattro partite ovviamente vedremo un attimo com'è la situazione in classifica e ci andiamo a fare quelli che sono i nostri awards di fine stagione. Bellissimo, Fapanat totalmente nudo, non c'ha manco più il corpo, cioè non c'ha più il bacino, addome, petto, se n'è andato tutto, non ha più niente dopo il gol segnato in finale di Coppa di Orange Becker, che bello. Ci ho detto, parlando di cose serie, a fine episodio oltre i awards faremo anche una piccola analisi di quella che è la rosa per vedere un attimo come muoverci sul mercato della prossima stagione. La prossima stagione toccherà alzare un pochino il livello della rosa, visto che molto probabilmente faremo una competizione europea. Perché dico molto probabilmente? Perché andiamo a vedere la classifica. Attualmente noi siamo quarti a 51 punti, col quarto e il terzo posto si va in Europa League, ragazzi, non c'è differenza tra i due posti. Europa League in ambe due i casi. Con il quinto invece si andrebbe in Conference, siccome ci siamo giocati la Conference League lo scorso anno con l'Arts e siamo usciti ai quarti, a memoria, mi sembra proprio così, contro il Borussia Mönchengladbach, mi vorrei giocare l'Europa League. Anche per rispettare un po' il discorso che vi avevo fatto quando eravamo andati in Europa proprio all'Arts o Milothian, volevo fare Conference, Europa League e poi Champions League, cioè uno step di questo tipo per viverci tutte le competizioni europee e abbiamo la possibilità di farlo con questo Utrecht. Siamo a più 3 sul 20, che è quinto in classifica. Non abbiamo sicuramente un calendario semplice perché spatta Rotterdam, Go ahead, Eagles, Azzed, Ehrenbend, soprattutto sono tutte squadre insidiosissime. Pensiamo però a una partita alla volta, allacciamoci le cinture e godiamoci questo viaggio finale di stagione. Proprio parlando proprio di finale di stagione, appena finisce la stagione, tocca rinnovare i contratti, tocca ridare un attimo una spennellata a quelle che sono le girarchie all'interno della Rosa perché tanti, tanti giocatori scontenti, perché? Perché magari hanno un ruolo cruciale come Booth, che io non mi ci trovo bene, oppure importante come Azarkan, che comunque non ha fatto niente di questa stagione, insomma, toccherà fare un attimo restyling delle girarchie. Questa partita contro l'Aremben ce la giochiamo ovviamente con la formazione titularissima sotto la pioggia il 26 aprile del 2031 al Balchstadion, che in realtà è lo stato generale comunque fuori casa contro l'Aremben, si va. Hernandez, Marchetti, Sousa per via centrali, a girarsi e passa su Bosdo, Gian, siamo un po' scoperti a centrocampo. Sousa, Marchetti, Sousa larga, sì, verso Hernandez, Hernandez di tacco dietro per Ibrahim. Ancora loro con Marchetti, buona per Sousa, Bojang, Mercado, palla che esce di nulla. Mi sa che l'ha toccata Celt, vediamo un po' il segnalino indicato lui, mi sa di no, infatti no, non l'ha toccata, però subì la prima occasione al settimo minuto. Hernandez, Nunele, largo e il Caroni, grandissima chiusura qui da parte del nostro segno sinistro e poi parte palla al piede. Il Caroni fino in fondo, il Caroni dentro per Blake, si muove Alonso e viene servito. Alonso dentro a sua volta, a cercare di trovare Fofanà, attraverso Fofanà, poi Collì, scordinatissimo al ventunesimo, 1-0 Utrecht, con Ryan Collì, il capellone cacerone. D'altro fa mesiste un attimo sta luce che ho veramente dentro gli occhi, non ci vedo niente. Ma Ryan Collì segna la rete che ci porta in avanti, alla prima occasione della nostra partita, attraversa colpita da parte di Fofanà e poi Ryan Collì, da lì, non sbaglia. Blake. Prova a finire qualcosa. Palleline Iqbal, servita adesso, si gira il numero 14, lo prova con il destro da fuori, brutto. Lo sa, Bojang, dentro il Caroni, brutto posizionamento, Bojang è passato, Bojang lo prova col mancino, se è col destro. Ma no, Pert, dice di no, no, Pert. Leic, Iqbal, Alonso, Alonso, ci sono spazi purtroppo. Ancora Raffaele Alonso, Iqbal, largo Collì, Collì, col destro da lì, deviazione, Alemdar in calcio d'angolo. Posso Gian, cross dentro, interessante verso Selt che non ci arriva, c'è Blake, Mali per loro, Zeziger, palla che è diventata una palla matta, ovviamente, Blake da Collì, Collì cross dentro, Posso Gian non ci arriva perché c'è Vanotel. E anticipato da Mercato Blake e finisce la prima frazione di gioco, caotica sì, ma siamo in avanti noi. Collì che la chiama perché Ibrahim è rimasto un pochino in avanti e quindi devo mandare Ryan Collì, Collì in accelerazione, Collì accelera, Collì, Collì, dentro, vabbè regà. Io quest'anno c'è un problema grave con i cross secondo me su sto FIFA, perché? Perché allora inizialmente mi andavano sempre male perché? Perché ce l'avevo sull'assistito e quindi il gioco faceva come voleva, poi l'ho messo a semi e continuavo a fare come voleva, adesso l'ho messo manuale regà, manuale, e fa schifo lo stesso, cioè fa come gli pare lo stesso, non so cosa abbiano i cross stanno. Intanto Iqbal controlla, largo ancora verso Collì, Ibrahim in chiusura. Pofana combattere e recuperare il palme per noi, gli crea lo spazio Alonso, però bravissimo il loro terzino a fare a diagonale. Adesso dentro per Blake, Blake sul mancino a Lemdar! Miracoloso su Adrian Blake, che stava per fare il colpo del K.O. al 66esimo. Marchetti. Celt non riesce a chiudere Ibrahim. Cross dentro, Bosdojan! Ha fatto un intervento clamoroso, poi non so perché Blake si stava disinteressando del pallone. Alonso, Blake, al 76esimo adesso, dobbiamo perdere anche un po' di tempo. Blake, Bosdojan. La linea ci sarebbe Alonso, Bosdojan, mantiene il possesso per noi, si appoggia verso Iqbal. Iqbal dentro ancora per Collì, con il destro! Palla che esce di nulla al 79. Tre occasioni sul piede destro, vi Collì. Due campi per noi, dentro Sarkhan e Diouf escono. Bosdojan e Blake. Lascio dentro Iqbal perché Iqbal mi sta piacendo. Ibrahim, dietro per Marchetti. Dobbiamo rimanere compatti, mancano otto più recupero. Marchetti, dietro per Ibrahim. Cross di prima e terza. Mamma mia, Iqbal, che trambata che ha preso un capoccio. Mamma mia che cosa ha preso Iqbal. È ancora in piedi e va. Palla al piede. Dentro per Fofana. Vai Fodè, vai Fodè, vai Fodè, vai Fodè. Vai Fodè, silenzioso tutta la partita. Fodè, Fodè, Alemdar! Terzo miracolo. Collì. Passa su uno. Collì, passa su due. Collì, Collì, come sempre Collì. Stavolta verso Alonso, Alemdar nuovamente! All'91esimo. Quattro miracoli clamorosi da parte di Alemdar. Che tiene ancora in partita l'Eremben. Intanto Varesanovic al posto di Hernandez. Per loro, corner per noi invece. Con Azarkan. Così dentro. Interessante. Celta. Alemdar la blocca. Ma non c'è più tempo. Triplice fischio. Fuori casa contro l'Eremben. Minciamo. 1-0. Agganciamo in classifica l'Eremben. Non so se rimaniamo al quarto posto o gli scavalchiamo. Questo non ne ho la minima idea. Tocca andare a vedere. Però sono tre punti fondamentali. Sei attaccato all'Eremben e tocca vedere se è allungato sul tuente. Allora, vediamo, vediamo. Innanzitutto ci arriva l'aggiornamento mensile all'osservatore in Islanda. Ma rimaniamo quarti. Perché innanzitutto l'Eremben ha una partita in più. E credo che abbiano anche la differenzialità a favore. Non lo so. Perché in realtà con questa partita in più non si capisce niente. Quindi non so dirvi. Però siamo a più 4 sul Fortuna Sittard. E a più 5 sul tuente. Anche loro, ambe due le squadre, con una partita in più. Quindi se vinci questa contro lo Sparta. Andresti a più 7 sul Fortuna Sittard. Con due partite alla fine. Quindi avresti il posto assicurato in quella che è l'Europa League. Quindi se vinci questa contro lo Sparta Rotterdam. Poi puoi rilassarti quanto te pare nelle ultime due. Perché vi dico ciò? Perché giustamente siccome nella realtà. Pensate quanto è fatto bene questo gioco. Nella realtà il terzo posto va a fare i preliminari di Champions League. Su questo gioco, siccome io conosco ormai chi lo produce FC24. Ovviamente per modo di dire lo conosco. Però negli anni abbiamo imparato a conoscerli. Ho fatto un test. Quindi ho fatto una simulazione dove arrivo quarto. Una simulazione dove arrivo quinto. Una simulazione dove arrivo terzo. Con quella dove arrivo quinto si va in Conference League. E ok. Con quella dove arrivi quarto si va in Europa League. E ok. Con quella arrivi terzo ho detto vabbè si va ai preliminari. No, si va allo stesso in Europa League ragazzi. Quindi per questo vi dico che possiamo stare tranquilli se vinciamo contro lo Sparta. E adesso andiamo a giocarci questa partita contro lo Sparta. Sparta che è fuori dalla corsa per tutto. Non può fare più nulla a 41 punti. Oramai è fuori da qualsiasi discorso per quanto riguarda Europa. Così come è la Zed alla fin fine se andiamo a vedere. No, in realtà la Zed sta combattendo per un post in Conference. Quindi attenzione. Attenzione alla Zed. Sparta-Rotterdam dunque per andare ufficialmente in Europa League. È fondamentale. Questo è l'undici dolari per la partita contro lo Sparta. Giocano un Hoppert che è sceso di overhaul. Norton Caffi, Selt, Kyle Carani, Diouf, Iqbal, Colli, Booth, Alonso e Fofana. Andiamo così al Gangelbart. Ci siamo sia partiti per quella che è una partita potenzialmente decisiva. Perché se vinci questa sei ufficialmente in Europa League. Che sia quarto che sia terzo posto non cambia nulla. E sinceramente ragazzi come prima stagione vedendo anche quella che è la rosa di base. Fare una stagione dove vinci la Coppa e arriva in Europa League. Tanta tanta roba eh. Intanto Iqbal da fuori. Eulei la blocca. Iqbal. Diouf. Sul destro dentro. Per Alonso! Col mancino bello semplice il numero 21. In quel di Utrecht. Stortellinamento. Comunque ha una qualità assurda di Uf. Non so se la notate. Se voi l'avete notata negli anni in cui l'abbiamo avuto a Seattle, in Scozia e anche in questo Utrecht. Che ha un'abilità di fare passaggi filtranti al momento giusto al limite della regore per i due attaccanti. In questo caso all'Utrecht o per l'attaccante in quelli che erano Yards e Seattle Sounders. Clamoroso. Che nessun centrocampista, la storia di questa che il Giramond ha avuto. Cioè quando gioca lui è assicurato il passaggio filtrante e l'assist per l'attaccante. Che lo buzz. Prima di Uf. Alonso ancora per lo statunitense. Entra ancora per Alonso. Alonso. Alonso col mancino. Lei dice di no. Mamma mia che bomba che c'ha Alonso però. Dominguez salta marcatura di Uf. E di Norton Caffi. Poi di tacco dietro. Ma Norton Caffi non si fa fregare stavolta. Colli. Colli finta. Entra Ryan con lì. Ancora con le altre finta. Rimpallo che favorisce Iqbal. Che arriva da dietro. Iqbal col destro. Oh lei nuovamente. Barone. Attenzione l'inserimento a parte di Dominguez. Numero 28 contro Norton Caffi. Dominguez dentro per Barone. Come si è girato il numero 10. Dentro a stavolta di Uf. La visceruta. Tocca strattenti perché loro sì. Non stanno facendo nulla. Ma alla prima occasione potrebbero farci male. Caroni. Taylor Booth. Rientra. E vada di Uf. Dentro per Fofanag. Grande azione. Iqbal. 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 Dietro. Per Alonso. 2-0. Utrecht. Al trentanovesimo. Doppietta di Raffaele Alonso. Ma ragazzi. Ma se si gioca così. Ma se si gioca così. Che meraviglia. Azione da calcetto questa. Fofanag aspetta proprio la sovrapposizione di Iqbal. Iqbal che corre. Va fino in fondo. Aspetta l'uscita del portiere. Appoggia dietro. Un cioccolatino. Per Raffaele Alonso. Che da lì non può mai e può mai sbagliare. 2-0. Al trentanovesimo. Quasi game set e match. E quest'anno per il gol più bello. Regà. Secondo me ne metterò più di tre. Ancora devo decidere quali mettere. Però sicuramente. Uno è quello di Culli. Quel gol meraviglioso da fuori area. Quello di Dioff anche. Però poi ci sono tante azioni collettive. Che vale la pena metterle. Quello di Alonso. In finale di Coppa. Questo. In questa partita contro lo Spartarotter. Da mi insomma ce n'è di scelta. Poi lì. Tanto spazio perché questo Van der Kust. Avanza che proprio boh non lo so. Non so cosa voglia fare. Dentro per Fofanà. 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 3-0. Utrecht al 47esimo. Ancora una volta. Fode Fofanà. Non so quanti sono il campionato. Fatto sta. Che è il capo cannoniere di questa area divisi. E giustamente fa vedere il nome. Sulla maglia. Assieme al numero. Però fa capire ai tifosi del Lutrecht. Che lui vuole rimanere. Ovviamente questa è una cosa che mi sono inventato io. Toccherà a vedere. Toccherà a vedere. Fana di testa. Olli controlla. Va da Diouf. Che meriterebbe il gol in questa partita. E palla che c'è nulla sul tentativo a parte di Brema Diouf. Alonso con una magia la mette giù. Va da Peters. Ma che abbiamo veramente le praterie. Peters dentro ancora una volta ad Alonso. Alonso cambia gioco a cercare ma non a trovare Fofanà. Che deve controllare andare dietro da Fofanà. Pinta la parte sua. La testa sul mancino con lì. Con lì dentro per Alonso. Alonso per la tripa personale. Oh lei gli dice di no. E poi anticipato Diouf. Al 93esimo. Ma non c'è più tempo. Al Gangelbart. 3 a 0 Utrecht. Domino totale. Europa League. Ormai matematica. E ci siamo tolti un bel peso di dosso. Ma proprio grande grande peso di dosso. Che ci leviamo. Era importante. Importantissimo portarci a casa questa vittoria. E così ci rilassiamo nelle ultime due partite. Ce le simuliamo anche. E facciamo un bel discorso per quello che sarà il mercato della prossima stagione. Come gestire a Rosa. Ia Worts. Chi tenere. Chi non tenere. E così via. Così ci concettiamo su quello. Eccoci qua. Taylor Booth. Che gioca questa partita. Dice che ormai vuole essere ceduto. Ok. Siamo anche terzi. Abbiamo scavalcato l'Airen Van. Anche per la differenza reti. Siamo ufficialmente Europa League. Quindi andiamo avanti. Adesso ci simuliamo queste. Come vedere le formazioni. La formazione è totalmente rimaneggiata. Per dar spazio a chi non ha mai giocato. Vinciamo anche 3 a 1. Tripletta da Alonso. Vabbè. Vabbè. Ragazzi. Si gioca segna lì contro la sede. Pglieremo una sveglia clamorosa. Però va bene così. Infatti perdiamo 2 a 0. Odgaard e Dolivera. Però l'importante è che abbia giocato lì. Dalla fine il piano meme lì. Non ha funzionato. Purtroppo non è andato a buon fine. Speravo di creare un bel meme con lì. Ma sono state tutte le partite decisive. Quindi l'arco della stagione. Non ha mai potuto giocare. Campione ufficialmente chiuso. Terzo posto confermato a più 3. Sull'Airen Van. Sono 53 gol fatti. 33 gol subiti. Miglior difesa del campionato. E abbiamo la terza. Anzi il miglior attacco del campionato. Quindi ottimo. Secondo me ragazzi. Tutto sommato è una grande stagione questa. Perché hai vinto l'Orange Becker. Tuo a 1 contro la sede in finale. E sei arrivato terzo in campionato. E tanta tanta roba eh. Tanta tanta roba. Ci ho detto. Adesso andiamo a vederci un attimo. Quella che è la rosa. Per quanto riguarda gli awards. Le cose varie. Ma prima. Ma prima. Gol più bello. Diuff. Ricorre il pallone per noi. Diuff. Sul destro diuff. Stavo dicendo. Deve ancora trovare il gol stagionale. Diuff. E lo trova. E con lì. Saltrà la marcatura. Ha appena entrato. Con lì. Ce l'ha sul destra. Lo prova. Ryan con lì. Al settantaquattresimo. Alla prima palla che tocca. La fa diventare magia. Vera e propria. Largo per Dolivera. Grande palla. Dolivera. È passato. Dolivera. 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 Caia. Intervento miracoloso. Dolivera. E poi con lì. Contro vede per noi contro Barbosa. Con lì. Rientra. Prova a mandare al Bar Barbosa. E ce la fa. Con lì. Ce l'era ancora con lì. Con lì. Poi dentro per Alonso. Alonso di prima intenzione verso Fofana. Buon 1-2-3-2. Può andare Alonso. Alonso. Sul mancino Alonso. Raffaele Alonso al 69esimo. Forse con deviazione. Caroni. E l'Orbuth. Lì entra. E va da Diuf. Dentro per Fofana. Che grande azione. Iqbal. 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 Dietro. Per Alonso. 2-0 Utrecht al 39esimo. Doppietta di Raffaele Alonso. Ma ragazzi. Ma se si gioca così. Visto il gol più bello. Come sempre. È il momento di andare a vedere il miglior acquisto. Partiamo con Melvin Peters. Arrivato per 3.3 milioni dal Lons. Abbiamo successivamente Jenson Selt. Arrivato per 9.3 milioni dal Sunderland. Ryan Collier. Arrivato per 6.5 milioni dal QPR. Wodef Fofana. Per 8.2 milioni dal PSV. Ibrahim Adyuf. Per 6.8 milioni dagli Arsom Lillothian. Se ne ha lì. Non lo conterei. Cioè. Voglio di. Gli voglio tanto bene. Ma non lo conterei. E basta così. E basta così. Quindi tra questi. Qual è stato secondo voi il miglior acquisto? E come ultima award. Ma non per importanza. Anzi. L'MVP. Partendo da porta. Andres Knoppert. Meno 3 di overall. Il 73. Purtroppo è decresciuto tanto. A causa dell'età. 38 presenze. E 14 rete inviolate. Io una cosa che non capisco di FIFA. È la decrescita automatica. Quando sei arrivato ad una certa età. Ma se il giocatore continua a far bene. Perché deve decrescere? Cioè. Knoppert ci ha salvato 300.000 partite. Perché deve decrescere Knoppert? Passando invece ai centrali di difesa. Contiamo. Zesiger. Più 9 roll. L'80. 26 presenze per lui. Lui che ha fatto la prima parte di stagione positivissima. Nella seconda invece si è un pochino perso. Abbiamo. Jenson Selt. Più 9 roll. 79. Il 27enne. Stesso discorso per Zesiger. Un gol per lui. In 36 presenze. In tutto ciò. Lui. Prima parte di stagione ottima. Seconda parte di stagione. Un po' come tutta la difesa. Si è perso. Dinamica inversa invece per Kaia. Che rimane un 77 di overhaul. Il 22enne. Ha giocato 16 partite. Lui. È stato utilizzato spesso. Nel finale di stagione. Perché? Perché era stra in forma. Quindi. A discapito di Zesiger. Ha giocato spesso. Per i terzini abbiamo. Il Kaorani sulla sinistra. Più 9 roll. 76. 29 presenze. Un assist. Discreto. Il suo rendimento. E Gutierrez. Più 9 roll. 74. 11 presenze. Lui diciamo che il suo l'ha fatto. Sulla destra invece contiamo solamente. Norton. Caffi. Più 9 roll. 4 assist. Lui è uno che corre. 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 Bel giocatore. Accettroppo. Partiamo da Melvin Peters. Più 3 roll. 74. 14 presenze. Tanta tanta roba. Peters quando ha giocato. A partire in corso. O dal primo minuto. Mi è sempre piaciuto. Cian Bosdo. Gianni. Il capitano. 3 assist. 71 presenze. Più 1 roll. 78. Lui che è un trentenne. Peccato. Sarebbe stato bello avercelo sui 26-27 anni. Perché è veramente un bel giocatore. Pur non essendo stra difensivo. Recupera tanti palloni. E dà una tranquillità al centrocampo clamorosa. Gianni Iqbal. Qui c'è un piccolo discorsetto da fare. Più 1 roll. 81. 28enne. Rakeno. 32 presenze. Un gol. 3 assist. E ragazzi. Lui non mi ha convinto. Già ve l'ho detto negli scorsi episodi. Mi aspettavo qualcosina di più. Qualcosina. Molto di più da parte di Iqbal. Anche perché. Basandomi sull'overall. E soprattutto sulle stats. È il giocatore più forte che abbiamo all'interno della rosa. Hands down. Mani bassissime. E non ha fatto. Non ha sorpreso. Cioè lui sarebbe dovuto essere quello che dava tranquillità al centrocampo. E ha fatto tutt'altro. Si è ripreso negli ultimi due mesi. Facendo delle belle prestazioni. Segnando anche il gol contro l'Ajax. Passerà per tenerlo? Non lo so. Non lo so. Ibrea Madiouf. Ormai una garanzia. Più 2 roll 77. È una garanzia sto giocatore. Alcuni hanno detto. Eh però Topi sempre. Rega ma è troppo forte. Come fanno. Cioè lui se ti serve qualcuno a centrocampo. È perfetto Diouf. Può farti. Il giocatore difensivo. Il giocatore offensivo. Il giocatore intermedio. La mezzala. Il mediano. Di tutto. Il trequartista. Di tutto. 26 presenze. 2 gol. 4 assist. Partendo invece dalla sinistra. Per quanto riguarda le fasce. Abbiamo Adrian Blake. 76 roll più 1. 29 presenze. Un gol. 3 assist. Lui non mi ha dispiaciuto. Come ho detto anche che era 2-3 episodi fa. Non mi aspettavo un rendimento così da parte di Blake. Decisivo sia in attacco che in difesa. Poco incisivo sì. Ma non mi frega nulla. Cioè è stato un giocatore perfetto. Magari il ruolo titolare è stato un pochino troppo. La prossima stagione magari andremo a rivedere questa cosa. Però bel bel giocatore. Mi piace. Abbiamo poi Marwan Azarkan. Le prime 2-3 partite. Vedeva lui un giocatore potenzialmente crack. In queste ridivisi. Poi si è perso totalmente. 24 presenze. 0 gol. 7 assist. Poi non lo vedo il 78. Taylor Booth non lo conterei perché ha chiesto anche la cessione. Quindi se ne andrà. E quando ha giocato devo dirvi che a parte un match. Non ricordo contro chi. Non ha fatto niente di che. E poi arriva secondo me un acquisto stato clamoroso ragazzi. Ryan Colli. 33 presenze. 11 gol. 7 assist. Prenuro il 77. E c'è da dire che la maggior parte di questi gol. Sono arrivati da Panchinaro. Perché? Perché lui è diventato titolare negli ultimi due mesi. Due-tre mesi. Quindi ragazzi. Questo fa capire il rendimento di questo giocatore. E in attacco contiamo ovviamente. Fodef Fofana. 35 presenze. 27 gol. 3 assist. Prenuro il 77. Solamente più un ruolo. Solamente più un ruolo è grave. E Raffaella Lonzo. Che gli mancava un assist per la double-double. Comunque. 37 presenze. 17 gol. 9 assist. Prenuro il 76. Che giocatore Raffaella Lonzo. Buttiamo solamente lo ruolo perché ha lì 3 presenze. Romeni invece 8. Quindi tra questi secondo voi chi è stato l'MVP? Come votare ragazzi per Rewards? L'unica cosa che vi chiedo è di farmi un commento diviso per quanto riguarda il video in sé o per la carriera nel sé o per quanto riguarda poi acquisti e eccessioni che dovremmo fare e di cui parleremo adesso. Diviso ovviamente al commento dove votate per Rewards. Mi raccomando regà è importante perché per le votazioni mi serve tantissimo. Per votare basta scrivere MVP due punti e mi scrivete il vostro MVP. Call più bello due punti e mi scrivete il vostro call più bello. E poi miglior acquisto due punti e mi scrivete il vostro miglior acquisto con motivazione addizionale se volete. Adesso parliamo un attimo di rosa. Allora partiamo da quella che è la porta. Knoppert si rinnoverà, lo rinnoverò a telecamere spente, lui sarà il secondo. Andremo a promuovere qualcuno dalla primavera come terzo portiere perché attualmente abbiamo Jansen, abbiamo Peters, abbiamo l'altro Jansen che comunque come terzi faranno il loro. Toccherà prendere un titolare assolutamente. Non ho già toccato qualcuno sul 76-77 di overall perché di portiere olandesi che non costano tantissimo purtroppo ce ne sono pochi e comunque hanno delle buone stats. Se lo sapete come la penso, prima le stats e poi l'overall. Razzi e Nonocomest sono già stati ceduti al Benfica e a Rioave. Sulla sinistra invece cederei, andrei a cedere Salvador Gutierrez che sì, il suo l'ha fatto ma molte volte è stato impreciso in difesa soprattutto per quanto riguarda il posizionamento in marcatura. E il Carolina lo terrei ma come riserva andrei a fare una grade sulla sinistra, mi prenderei un bel titolare. Per quanto riguarda i centrali di difesa, Sanyan andrà a 0 al Via Real B. Celt rimarrà, Kaya rimarrà, Zezia credo che rimarrà, decrescerà e rimarrà credo comunque. Toccherà prendere un DC titolarissimo e già sapete chi vorrà andare a prendere. Sulla destra abbiamo Norton Caffi, Lambert se ne andrà a 100% ma abbiamo già preso il sostituto di Norton Caffi, ossia Kylian Sardella a 0 dal Burnley che è in championship in questo potaggio dall'altro ho notato e verrà a fare la riserva lui di Norton Caffi. Norton Caffi tocca vedere, Norton Caffi molto probabilmente arriveranno tante offerte per lui perché è un giocatore mostruoso quindi è giusto che qualcuno si faccia sotto. A centro a Pupeters lo confermerei, Duf lo confermerei, Bozojan lo confermerei, Iqbal tocca vedere. Non lo metterai sul mercato Iqbal perché magari potrebbe avere un explore alla prossima stagione, però al tempo stesso toccherà stare attenti a quelle che sono le offerte. E allora lì se dovesse arrivare un'offerta importante di qualche big o comunque un'offerta importante dal punto di vista monetario, toccherà un attimo pensarci. Sulla sinistra Blake, come ho fatto anche nel discorso per quanto riguarda la MVP, lo renderei una riserva nonostante le grandi prestazioni e andrei a prendere un bel giocatore titolare. Sulla destra se ne va Booth, Colli rimarrà a fare il titolare, per forza, cioè dopo una stagione del genere non può non rimanere a fare il titolare, a Sarkhan lo terrei magari a fare la riserva, va benissimo riserva Sarkhan. In attacco ragazzi la situazione è, cioè mi piace come si è evoluta la cosa, perché vabbè a lì credo che lo manderemo via oppure lo teniamo come quinta a fare il meme, però Fofanà spero che rimanga. Tocca a vedere se arrivano offerte per lui, Alonso rimane 100%, mi sono innamorato di Alonso, Romeni credo che se ne andrà, rientra De Vries e quindi abbiamo la riserva di Alonso e ci serve poi una riserva di Fofanà. Mi piace, mi piace, mi piace la situazione, perché De Vries può fare sia la T che la TT e quindi ti può fare veramente tutto là davanti, anche perché ha un bel fisico, un 83x73 kg non è male, e tocca avere un attimo come muoverci. Però sono molto casato. La base che abbiamo messo quest'anno è ottima per il prossimo anno, perché ti permette di fare una buona squadra senza fare nessuna rivoluzione. Il mio obiettivo è quello di creare una squadra competitiva in redivisi che possa giocarsi il campionato con PSV e Ajax, che quest'anno sono arrivate troppo, ma troppo avanti. Si parla di un più 18 PSV che ha vinto il campionato, un più 17 dell'Ajax rispetto a noi che siamo arrivati ai terzi, capite che è un pochino troppo. Quindi tocca assolutamente ridurre questo gap e poi creare anche una formazione competitiva per l'Europa, perché allora vince l'Europa League la vedo dura, perché comunque l'Europa League, voglio dire, è una competizione europea abbastanza importante, con squadre all'interno abbastanza importanti. Ma secondo me possiamo tirare giù una bella squadra da quarti di finale Europa League e poi sognare, chissà. Ci divertiremo ragazzi, trust me, fidatevi di me che ci divertiremo. Io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!